Un tributo basato su un principio d'equità ognuno pagherà in proporzione al rischio reale. Parte dalla Toscana, quella che potrebbe essere definita una vera e propria rivoluzione contenuta nel protocollo di intesa firmato da Regione Toscana, Anci e Ambi e naturalmente anche il Consorzio 2 Alto Valdarno per quanto riguarda il territorio di competenza. Un accordo che arriva in contemporanea all'approvazione del documento operativo sulla difesa del suolo e che segna così un nuovo approccio toscano al tema della mitigazione del rischio idraulico. Il protocollo che abbiamo firmato anche noi come Consorzio, spiega il Presidente Paolo Tamburini, formalizza il sistema con il quale si darà attuazione a questi interventi, quindi da un lato i comuni che saranno soggetti attuatori, oltre che propositori in virtù della conoscenza che hanno del loro territorio, mentre da parte del nostro Consorzio di Bonifica c'è un lavoro importante, cioè la predisposizione, dei piani di classifica che consentiranno di estendere il contributo consortile a tutta la comunità secondo un principio di equità. Tutti pagheranno sulla base di criteri che faranno in modo che ciascuno paghi in maniera proporzionale al beneficio tratto dagli interventi. I soldi saranno quindi reimpiegati per la sicurezza idraulica e per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari. In questo modo i cittadini, conclude Tamburini, potranno toccare con mano dove i soldi verranno spesi. Con l'accordo firmato i consorzi di Bonifica si impegneranno a presentare le proposte dei piani classifica alla Regione entro il 30 giugno 2016 e garantire così la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la Regione Toscana.